buongiorno ragazzi anche se oggi non è che siamo del buon umore perché sento di festeggiare questi anni nella maniera giusta però comunque sempre il giorno del mio compleanno quindi oggi spengo le candeline e niente quindi oggi festeggio gli anni il mio compleanno secondo famiglia cui sono ben disposto sono altrimenti se ne frega voglio mandare un messaggio ma di kim ma visto che rimosso like sulla pagina alle mafie che dirti questo mi fa capire che ancora tu hai dell'asso nei miei confronti perché altrimenti non avresti fatto e semplicemente ignorato invece è tolto per dire che la fase della mia presenza evidentemente come la faccia che ha dato a stereo che ha suscitato chissà quale impuzzi negativi oppure sicuramente non positivi e mi hai tolto questo quanto va mi toglie anche su whatsapp prima poi mi tolto anche su youtube ammesso che già l'hai fatta quindi mi dispiace a me mi dispiace che siamo arrivati a questo punto che vedere una notizia bella nei miei confronti perché penso che la notizia di compleanno sia una delle cose più belle che capita a una persona ti suscita questo ti suscita questo ti porta addirittura a togliere non è che non è tanto fatto di togliere perché comunque non ti interessa la pagina però l'hai fatto per via mia proprio perché la pagina non ti interessa magari i contenuti della pagina non ti interessa proprio la mia presenza proprio ti ha fastidio proprio la mia presenza io avrei voluto anche la nostra amicizia poteva anche finire prima o poi perché tante cose però mi dispiace che finisci in questo modo che con l'astio con l'astio con l'odio quello che è perché comunque tu provi questo adesso perché altrimenti non avresti mai tolto la like mi dispiace perché dove anche sta c'è un giorno allontanamento questo che l'altro ma non in questo modo non in questo modo non credo che io ti dirò che ne soffro perché sono 25 giorni che sto soffrendo tu sai bene quello che mi dica a te come rapporto mi sbaglio che sto pagando a caro prezzo quindi non credo che mi aiutami tutto questo oggi è il mio compleanno e lascio stare gli auguri non mi interessa che mi aiutami oppure no però almeno questo no almeno tutto questo assi e non credo che mi aiutami perché sto soffrendo non è che me lo sto fregando una minchia di te quindi detto questo mi auguro che tu possa un giorno perdonarmi non dico che c'è avere a che fare con me ma solo che un giorno a me mi perdoni che la mia presenza non ti suscita né negatività né incazzamenti né altre cose non ecce